Quest'oggi il nostro tour ci porta nel cuore dell'Appennino Umbro-Laziale. Siamo in una frazione di Cascia a Maltignano. Maltignano di Cascia, 130 abitanti e 714 metri sul livello del mare. 130 abitanti, poco più di un condomino di Roma. Ma che stai a fare, Roberto? Ma che stai a fare di qui? Sto presentando quello che ci sarà oggi a Maltignano. Ma di qui non siamo a Maltignano. Perché dove siamo? Ma siamo a Cascia, lo vedi? A Cascia? Maltignano è più in là. Accidenti, con la forza dell'abitudine. Mi avete piantato qui tre anni e mezzo, vengo sempre qui. C'è la benedizione dei trattori. Andiamo subito, andiamo subito. Noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche. Grazie a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche. Grazie a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche. Grazie a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche. A 86 anni mi onoro di guidare la comunità di Maltignano a proseguire una tradizione bellissima. Quella della devozione a Sant'Antonio Abate e quella della benedizione degli animali che non è mai mancata. Ogni volta che si celebra Sant'Antonio Abate la solenne celebrazione anche con tre sacerdoti gli anni passati, prima del terremoto e poi la benedizione degli animali. È una cosa meravigliosa anche perché è una tradizione millenaria, certamente, anche perché Sant'Antonio Abate è il protettore degli animali. Si chiama anche Sant'Antonio il Grande, lo chiamano Sant'Antonio la Nacoreta, ovvero colui che proprio si isola a favore della collettività. Allora aggiungo che la prima vita dei Santi, a geografia dei Santi, è la vita di Sant'Antonio scritta dal vescovo Sant'Atanasio. Quando è morto Sant'Antonio? A 105 anni. Bisogna fare penitenza per campare. 105 anni? Sì, chi mangia troppo non campa. A 105 anni, Sant'Antonio mangiava poco. Faccio tesoro di quello che dice. Sant'Atanasio vescovo per la prima volta i Vangeli raccontano quello che Gesù ha fatto e ha detto, ma la geografia dei Santi comincia con la vita di Sant'Antonio. E allora pensate che in questo libro viene nominato spesso il demonio. Anche qui la nostra gente sa che la devozione a Sant'Antonio protegge gli animali dalle infestazioni di ogni genere, ma anche da quelle del demonio. E pensate che il demonio che divide viene nominato 47 volte nella vita di Sant'Antonio. Chiamato anche il diavolo, avversario dell'uomo, per 14 volte. E poi anche Satana, nemico di Dio, 14 volte. E pensate quante volte il demonio viene nominato nella vita di Sant'Antonio. E la popolazione nostra sa che parlando di Sant'Antonio ci liberi dal male, ci liberi dalla tentazione. Ecco perché Sant'Antonio Abate è considerato anche il santo che protegge da una malattia epidermica, come il cosiddetto fuoco, che prende proprio il nome da lui di Sant'Antonio, detto Herpes Zolster. Nella devozione di Sant'Antonio dei nostri paesini non c'è tanto lo sfoco di Sant'Antonio, quando invece la protezione degli animali. Questo è importantissimo. A Cascia c'è la bellissima chiesa di Sant'Antonio, intorno all'altare, una ventina di affreschi del 1400 con tutta la vita di Sant'Antonio, di Nicola da Siena. Nicola da Siena, bellissima. Non sapevamo che in questa zona, in questa terra ritiana, ci fosse stata questa grande devozione per il santo d'Egitto, Sant'Antonio Abate, che poi lei mi ricorda è morto a 105 anni, trovato sepolto dalle sabbie del deserto. Non dimentichiamo che il cristianesimo da Spoleto alla Valnerina a Sant'Eutizio l'hanno portato quei che fuggivano di laggiù, perseguitati. E allora sono venuti da queste parti i monaci e il popolo che ha portato il cristianesimo qui, ma già nel primo secolo. Il monachesimo, lui è seguaci del monachesimo, gli abbassi chiamano. Il cristianesimo è nato così dai siriani, i detti siriani. Sì, abbiamo fatto un circostanziato servizio proprio con il mass streaming, due anni al suono quasi, dinanzi all'abbazia di Sant'Eutizio dopo il terremoto. E abbiamo parlato proprio di questi insediamenti che arrivavano dal Medio Oriente prevalentemente e di questi abba, così venivano chiamati, che poi lì praticamente incentrarono la loro vita, il loro ceppo antropologico, se così possiamo definire. Però io oggi farei un salto da questa storia circostanziata che abbiamo fatto sulla ageografia, la storia dei Santi, in questo caso di Santo Antonio Abate, a quello che è l'anno corrente, il periodo che viviamo. Allora io innanzitutto, e qui c'è una campana non a caso, ci troviamo dentro questo prefabbricato che Monsignor Elio Zocchi, mi parlava, è stato donato dopo il terremoto di tanti anni fa, del 1979, settembre 79, 19 settembre, con certezza meticolosa dei dati storici e anagrafici. Ora purtroppo sappiamo benissimo che la Valnerina ricorre spesso e volentieri con questi eventi tellurici. Voi avete quindi celebrato messa qui fino al 1982-83, ma poi nel 2016 avete trovato in qualche modo una sorta di giungla sopra questo prefabbricato, Monsignore? Completamente abbandonato e con la popolazione che mi ha aiutato per diversi giorni abbiamo tolto tutta la vegetazione che nascondeva, perfino il tetto, perfino la cima dei pini che sono qui davanti. E è stata sistemata, è l'unica chiesa che ha la via Crucis, pensate, Santa Rita, Roccaporena e questa chiesina qua. Il comune di Norcia e il comune di Cascia non hanno altre via Crucis. Quindi nella Quaresima noi abbiamo fatto la via Crucis qua. L'ultima Quaresima ovviamente. Ora dal 2016, dopo i grandi terremoti, 84.000 terremoti sono stati contati e noi dovemmo abbandonare le cinque chiese di Maltignano. Da una chiesa passavo all'altra e dopo un mese dovevo cambiare perché ancora altre scosse e altri danni. E venimo qui nel 17, un anno dopo il terremoto e adesso ci troviamo qui. E dico che quando dovrò lasciarla mi dispiacerà molto perché mi trovo tanto bene, è molto raccolta, la popolazione di Maltignano che era di 100 persone adesso è di 60, è diminuita. Io ho detto 130, quindi mi sono allargato. No, no, ma guardi, l'estate sono anche più di 130, ma d'inverno ci riduciamo a 50, 60 persone. Ora in questa chiesina noi festeggiamo, ecco, non i matrimoni e i battesimi che le autori dell'Ecclesiastica vuole che siano una chiesa più decente, ma tante cose belle le facciamo. Anche quest'oggi c'è stata un'omelia, c'è stata anche una sua predica dove parlava delle campane. Noi abbiamo questa campana millenaria, non so di che epoca faccia parte, fatta di materiali preziosi, sembra un bronzia dal punto di vista del colorito, ma questo verde che ci fa capire che sono delle opere d'arte, ma ci sono anche dei problemi acustici, lei mi parlava. Vi dirò che dopo il tremoto del 79, non solo qui fu me la messa, ma all'ingresso una colonna, una croce con una campanella. Io per un po' di giorni ho suonato quella campanella lì, poi un parrocchiano mi ha detto, ma io ho donato alla chiesa di San Valentino la campanella che adesso sta per terra, è caduta, il campanella è caduta e l'ha risistemata, dal falegname ha fatto fare questo piccolo campanile e la domenica la sentono tutti perché squilla. Accidenti, è un momento per parlare delle campane. Voi pensate, i nostri campanili, si dice campanilismo la gara tra una parrocchia e l'altra, tra un paese e l'altro. Noi paesini qui facciamo a chi suonava più a lungo, a chi suonava di più, quando una festa, uno suonava e sentiva la campana di un altro paese, ricominciava perché doveva finire per ultimo, quindi campanilismo, ma più che parlare del campanilismo, mi piace parlare dell'onore che si dà a Dio attraverso lo squillo di un oggetto prezioso, come la campana. Il fatto di materiali preziosi. C'è l'oro, l'argento, il bronzo, vari metalli. Le famiglie donavano perfino le fedi coniugali per poter fare la campana degna del paese. A che epoca risale orientativamente? Noi abbiamo due campane del 1200 a San Francesco a Cascia, due campane del 1200, e neanche la pannerina ce n'è qualcuna, del 1200, ma queste che voi vedete sono più che altro 1400-1500. Siamo nel alto medioevo. E abbiamo due o tre case fondiarie, cioè che fondano le campane. Due fonderie. Fonderie, sì. Una è a Fermo, una qui a Fermo, un'altra in Abruzzo, nelle Marche in Abruzzo. Ce ne abbiamo vicine, siamo confinanti con le Marche, ma anche l'Abruzzo non è distante da qui. Un'altra cosa che mi ha colpito, Monsignor Elio, è stato vedere pochi animali quest'anno. Solo un poni, o ciuccio, come dicono in Napoli, un somaro, un asino, e una marea di trattori che io quando sono arrivato con il mass streaming sembrava un concessionario quasi. 200 trattori, mi sai. Sì, i trattori sembrava una concessionaria. Due asinelli, una decina di cagnolini, un pappagallo. Sì, un pappagallo colorato e bellissimo. Bellissimo. E pochi animali. Ma dovete capire, mica abbiamo più le stalle, non abbiamo le case. Abbiamo 200 case in legno dove abitano le persone. Pensate con che sacrificio. Finché ci stanno un anno, due, ma non mi sembra che per adesso si possano ritrovare le case ricostruite con questa lentezza della ricostruzione. Vediamo un immobilismo spaventoso. Tutto come è rimasto nell'ottobre del 2016. Siamo un po' arrabbiati, perché vedi, addirittura non se ne parla. Faccio una confidenza. Da quando c'è stato il terremoto io ogni giorno leggo due giornali, ascolto i telegiornali e scrivo una paginetta. Ogni giorno una paginetta dove si parla della ricostruzione. Passano tre, quattro giorni, non ne parla. Né i giornali, né la televisione. È un'offesa a quelli che stanno nelle casette. Per fortuna a Cascia non ci sono i funghi e non c'è l'umidità. Ad Amatrice sì, purtroppo. Ora pensate voi, queste famiglie, sacrificate lì e mi parli di animali, ma manco il cagnolino possono tenere lì dentro, con una cucina e una camera. Quindi sono problemi sempre. Enormi. Noi facciamo un servizio poco dopo il sisma in Stalle, che si trova poco qui, tra vendita e Cascia, e gubbiano per esattezza, e troviamo una situazione veramente paurosa. Ora, ma certo, Monsignor, una cosa grave. Ci sono i soldi, anche di alcune fondazioni, come i Lions, come altri, ma questi soldi non arrivano, sono bloccati. E credo che questo sia ancora più grave. Ma io dirò che qualcuno, noi abbiamo gente che sta a Roma e sta anche Benino, avrebbe pure restaurata la casa con i suoi soldi, ma ci è vietato. Non possiamo toccare. che abbiamo avuto, non un controllo, ma siccome i terremoti si ripetevano, abbiamo avuto tre, quattro controlli. Pensate quante spese solo per quel lavoro di controllo. E poi ci dicono della B, della E, adesso facciamo qualcosina della B, che la spesa è minore, undici chiesette sono previste, ieri sono stato al mio paese, agriano, qui a Maltignano la Cesena è a buon punto. Mi dicono che per Pasqua forse la riapriamo, la Cesena è più, metà di questa, metà di questa. Agriano, al mio paese, non sono cominciati i lavori, hanno messo in sicurezza, con 10-20 mila euro, e c'è il finanziamento, ma i lavori non sono ancora cominciati. c'è il finanziamento in un inizio dei lavori, questa è una cosa veramente allarmante, è molto grave. Anche il Vescovo ha detto, per San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, l'altro giorno a Spoleto è stato severo. Il Vescovo, l'Arcivescovo di Spoleto, Monsignor Boccardo. Boccardo, sì, sì, ho letto nel giornale che il Vescovo ha usato una parola forte per dire, svegliatevi, datevi da fare, la popolazione, mi dice, gli animali, non abbiamo dove mettere gli animali. Ci sono dei sindaci scoraggiati, c'è il sindaco Palombini, ad Amatrice, che dice, non ce la faccio, come quello anche di Castel Sant'Angelo sul Nera. Qualche sindaco dice, io aspetto un altro po' che mi dimetto. Vogliamo dire tutto? Dopo i terremoti della Vallerina, tante risgrazie, compreso il ponte di Genova, compreso altri terremoti, altri crolli, altri fiumi che allagano, e tante. E noi, quando ogni mese leggiamo che c'è altra popolazione che soffre, diciamo, e come faranno a ricordarsi di noi? È un susseguirsi, una sorta proprio di scatola cinese infinita. E vogliamo ricordare, prima di salutarla Monsignor Elio, Elio Zocchi, che purtroppo non hanno ancora capito che l'Italia è un paese sismico, una terra che si muove, oltre alle dabbenaggini che sono state fatte negli anni e che producono crolli di ponti, piloni in cemento armato che non sono stati mai revisionati, messi in sicurezza, restaurati, ristrutturati. Insomma, siamo in una condizione di non ritorno, detto da un Monsignore che opera qui, un priore ormai, da moltissimo tempo, ma anche dall'Arcivescolo di Spoleto Norcia, a cui continuano a fare le orecchie da mercante. Promettiamo, e lo diciamo in questo servizio, che si è aperto con tutt'altro, perché parlavamo della pretenzione degli animali, che andremo a fondo su questa faccenda anche del perché ci sono i soldi e non vengono spesi per ristrutturare Norcia, Matrice, Cash e tutto il resto. E per il momento, grazie. Monsignor Elio Zocchi, la ringraziamo per questa storia dettagliata che ci ha fatto, ma soprattutto per la punta polemica, perché lei, essendo il pastore di una comunità, il punto di riferimento, deve essere anche portavoce di quello che non va. Nel 2016 eravamo un po' più tranquilli, perché era l'inizio di quell'anno che poi decretò, purtroppo, la fine di tutta una serie di cose, perché il sisma ci fu in agosto e poi peggio ancora in ottobre. Quando l'Arcivescovo è andato dal Papa già la prima volta, ha detto i miei sacerdoti non hanno abbandonato nessun nobile, nessun sacerdote ha abbandonato le sue pecorelle. Questo è importantissimo, mi auguro che anche i sindaci lo facciano, soprattutto i sindaci come Amatrice e Castel Sant'Angelo sul Nera, che hanno manifestato veramente una situazione di assoluto disagio irreversibile per loro. Grazie, Monsignor Elio Zocchi, torneremo a trovarla e seguiremo anche i lavori della Chiesa di San Martino a Maltignano. Beh, è un volto che i nostri telespettatori conoscono benissimo perché tutte le volte che vengo a Cascia mi aiuta a animare i servizi con delle simpatiche gag, però noi lo conosciamo oggi nella sua veste primaria che non è quella attoriale ma è quella di ristoratore Alberto Primucci. Alberto Primucci che ha questa bellissima realtà ormai decollata da anni che si chiama La Lanterna, ce ne sono molti di devoti alla Lanterna che vengono qui a mangiare da lei Primucci e quando si parla di Sant'Antonio praticamente fa questo pranzo luculliano che inizia a mezzogiorno e finisce alle 18 neanche fosse il matrimonio dei regali inglesi e dove praticamente si sta insieme si mangia tutti quanti convivialmente. Alberto, perché questa tua grande passione per quanto riguarda questa festa che celebra Sant'Antonio Abate? Allora, essendo un agricoltore, io sono un agricoltore, ho un allevamento, nasci come un agricoltore, nasci come un agricoltore, avendo molti animali, sai, gli animali sono devoti a Sant'Antonio e la festa del Martignano è molto sentita, cioè, partecipano da tutti i paesi perché è una festa molto animata e poi c'è molta allegria, cioè, c'è stata la sfida dei trattori che la gruppa tutti perché quando si parla dei trattori, sai, oggi, una volta si parlava di mucche ma adesso si parla dei trattori, il trattore è il nostro stile di vita. Mucche e asini! Asini, è il nostro, come si dice, è il nostro cavallo di battaglia che abbiamo con questi trattori e allora ci siamo casati tutti, abbiamo portato tutti i trattori, abbiamo fatto la sfida, insomma, erano numerosissimi e poi dopo, fatta la mesta, c'è stata la benedizione, la stella di Agnelle come tutti gli anni e siamo, guarda, io penso che dell'Umbria siamo il secondo paese che fa la festa più bella di Sant'Antonio. È una festa popolatissima perché io sono già venuto qualche anno or sono e qui veramente non si passava neppure con le automobili. Peraltro, ho notato una cosa, a distanza di pochi anni dopo la grande spaccatura proprio sociale ed economica che ha provocato il sisma oltre che purtroppo nelle abitazioni, ho notato più trattori e meno animali quest'anno. Come mai? È correlato con il sisma? No, perché gli animali non è facile portarci lì. Il tempo è poco, siamo iniziati in buotardi e allora il trattore è facile, mette a modo lo porti. Gli animali, quest'anno siccome c'è stata la concorrenza di... ci ha danneggiato molto riede la fiocchettatura e la terza volta lo rinvia noi abbiamo spostato la posta per loro perché la facevano però hanno deciso cioè ormai avevano venuto a riede a fare la fiocchettatura e sono andati giù però non importa niente noi eravamo numerosissimi uguali non c'erano i cavalli ma c'è stata una partecipazione enorme. Scusami, l'infiocchettatura? C'era a riedi, fanno l'infiocchettatura dei cavalli e sono andati tutti a riedi. Noi siamo animali e gli animali eravamo pochissimi però va bene, va bene perché la gente vede che tutti gli anni lo facciamo è sempre più popolato quindi c'è molta risposta degli altri paesi perché come si dice c'è lo sento che a Maltignano è festa se tu dici c'è una festa a Maltignano lo sanno che è confusione c'è c'è aggregazione a un soborgo di pochissimi abitanti ne fa sì e no 100 quindi nel comune di Cascia poi dopo il terremoto siamo un po' si siamo ballendati non so che è successo noi stiamo cercando di ricostruire questa questa comunità stiamo cercando di ricostruire con queste feste così popolate speriamo che che non deludiamo la popolazione assolutamente no un'ultima domanda la facoltà di attore come l'hai scoperta l'hai coltivata recitavi a scuola recitavi anche perché no con i tuoi animali io sono nato così io sono nato così sono normale non è che devo bere sei così autentico ha fatto anche il Papa mi suggerisce il mass streaming alcuni mi dicono magari hai bevuto invece il mio è normale così il mio tenore di vita è questo sono sempre allegro allora posso approfittare per altre gag che sicuramente faremo grazie ad Alberto Primucci grazie nel pieno di questa festa che in qualche modo degrada verso sera verso l'imbrunire con giochi di gruppo con stornelli e con grandi momenti di convivialità questa festa di Sant'Antonio incontriamo il giovane assessore alle politiche territoriali di Cascia Daniela Benedetti grazie per aver accettato il nostro invito assessore grazie è un piacere incontrarvi un giovane assessore lei lo fa qui a Cascia ed è presente sempre a Maltignano lei sottolineava che quest'anno c'è stata la presenza massiccia dei giovani allevatori tanti giovani ragazzi che hanno sfilato nel trattore e udite udite sul trattore c'era anche l'assessore Benedetti diciamo che per me questa è una giornata importante è una festa popolare molto sentita nel nostro territorio gli allevatori casciani gli agricoltori casciani sentono in prima persona la vocazione a questo santo e quest'anno abbiamo avuto una forte presenza di tante di tante aziende storiche locali ma anche tanti nuovi imprenditori tanti nuovi ragazzi tanti giovani che si sono avvicinati all'allevamento e all'agricoltura quindi per noi questa è una grande una grande vittoria perché è il futuro del nostro territorio cioè in questo momento nel momento del terremoto nel momento del sisma la rinascita di questo territorio può e deve avvenire anche e soprattutto con l'agricoltura beh credo che sia soltanto un punto un obiettivo ben centrato da questi ragazzi che hanno saputo anticipare in virtù anche ormai dell'esaurimento dei cosiddetti lavori legati al terziario e di altri sbocchi quello di individuare di incaralarsi su quella che è stato poi per decenni il modus vivendi principale a livello economico non solo dei loro genitori e dei loro nonni è un po' difficile magari spiegarlo ai ragazzi che vengono dai centri urbani piuttosto grandi e le metropoli ma qui a Cascia si è accolta l'occasione quanto è influito positivamente la crisi economica nazionale in questa scelta dei ragazzi di Cascia oltre che purtroppo per i danni di questo terremoto che in qualche modo ha devastato anche l'economia territoriale diciamo che i fondi nazionali e regionali hanno aiutato il crescere di queste aziende locali questi giovani agricoltori imprenditori che si sono dilettati e hanno creduto ancora di più nell'allevamento e nell'agricoltura come risorsa che potreva far planare il loro futuro in questo momento nel momento del terremoto che è un momento un po' particolare perché abbiamo tantissime attività danneggiate che ad oggi si stanno riprendendo ma molti ragazzi hanno deciso di rottare le loro potenzialità il loro futuro nell'agricoltura e nell'allevamento e questo è praticamente un qualcosa che va in controtendenza rispetto a quello che è il trend nazionale almeno qui parliamo di Cascia e di questa zona a sud-est dell'Umbria quindi questa valnerina specifica anche un po' vicina a Lazio anche lei stava sul trattore adesso pensa di fare una cosa un po' da faro est andando anche sul toro meccanico che si trova fuori? Beh diciamo che forse non è nelle mie capacità nella mia fisicità attingere a questo sport però diciamo che andrò a vedere i miei concittadini che sfideranno la loro forza con il toro meccanico Per il momento guarda chissà se magari l'anno prossimo ci proverà pure grazie Assessore Benedetti Grazie a lei Un terreno sicuramente meno scosceso di quello di tre anni or sono ma qui c'è stata questa spianata in cemento per costruire edificare questa struttura in legno il ristorante la lanterna la trattoria la lanterna di Alberto Primucci che conoscete come attore e noi come grande ristoratore sei ore di pranzo ed è stato veramente difficile muoversi soprattutto cercare di smaltire i fumi dell'alcol e di accalappiare i santesi entranti e quelli uscenti ma finalmente ce l'abbiamo fatta cominciamo a presentarvi i santesi i nuovi santesi a partire dal signor Samuele Aloisi a tanti Bruno e poi Gianfranco Demofonti Demofonti come un filosofo lei Narduzzo Salvatore uscente però uscente uscente Manuele Manuele Mercuri uscente di Gian Battista Domenico uscente anche Gian Battista Domenico allora quando vi scambiate le coccarde eccole qui le facciamo vedere c'è questo medaglione credo sia argento è latta no? è latta è un argento lattato diciamo così usiamo un neologismo tanto abbiamo da smaltire tutto il pranzo e le cinque bottiglie di vino a testa che ci siamo bevuti con tanto di coccarda ecco allora come ve le scambiate c'è un cerimoniale come accade a Miss Italia piangete vi tirate i buchè no? viene per estrazione ah per estrazione e ogni santese che ha fatto il mandato dell'anno prima viene cancellato e viene aggiunto dei nuovi santesi un giovane e due vecchi due anziani due anziani persone più mature negli anni come il signor Luigi gli hanno dato del vecchio lui ma lui fa vent'anni io sono 70 e vabbè se li porta bene lei il signor Demofonti è la prima volta che fa il santese non vedo la coccarda però l'ha venduta sono due sole le coccarde a due vabbè per risparmiare lei ce l'ha praticamente a livello spirituale la coccarda in qualche modo è la prima volta che lei si adopera con questa mansione? no no l'ho fatto anche altri anni anche altri anni ma cancellati venire cancellati come diceva lui significa che non potete essere rieletti al secondo mandato? quando finisce il turno il giro dopo ti rimettono dentro dopo 10 anni magari 15 anni dipende quanti siamo 15 anni addirittura? sì ci siamo 30 quindi Luca adesso è un ragazzo tra 15 anni sarà padre di famiglia quasi nonno certo già è nonno è incredibile nonno no già sono padre di una bambina padre di famiglia è come un maltingiano acquisito sono stato io un maltingiano perché viene da? Cascia vabbè viene sempre da qui insomma siamo nel comune di Cascia sì sempre al comune di Cascia e mi hanno acquisito qui a maltingiano ecco letteralmente santese significa sagrestano colui che in qualche modo accudisce la chiesa accudisce la sagrestia prepara l'altare voi che preparate la festa di Sant'Antonio quella prossima no? voi siete altissimi l'anno scorso c'è stato sicuramente qualcuno in giuria che ha promosso questi giocatori di basket mancati noi abbiamo preparato questa festa perché abbiamo adesso ceduto ai nuovi l'organizzazione per la prossima festa del prossimo anno ma dietro tutto ciò c'è stata tutto diciamo un'organizzazione che non è da meno ecco con l'aiuto dei miei colleghi siamo riusciti a portare avanti diciamo una tradizione che in questi piccoli paesini è molto sentita ecco lei ha un accento non propriamente appenninico umbro marchigiano naziale diciamo tipico meridionale ecco di dov'è? siciliano siciliano d'origine mai importato qui da 14 anni quindi diciamo acquisito maltignanese acquisito per amore? per amore e per la gloria soprattutto la seconda la gloria mentre il signore qui somiglia a un santese di qualche anno fa il fratello? probabilmente sì siete due gocce d'acqua qual è il più giovane più giovane? più giovane più snello diciamo così una famiglia di santesi un po' come la famiglia Kennedy qui ci sono la famiglia Mercuri se non mi sbaglio che sono un po' santesi doc nel DNA sì questa è la mia credo la mia seconda esperienza da santese diciamo giovane giovane quarantenne quindi per quanto sia giovane e niente quest'anno verrà rifatto il bussolo perché abbiamo tirato estratto gli ultimi quattro santesi rimanenti e prossimamente verrà rifatto il bussolo con tutti i nuovi santesi quindi non è detto che ritrascorrino 15 o 20 anni potrebbe succedere anche che verremo insomma riestratti anche il prossimo anno a sto punto voi siete d'esempio perché purtroppo noi abbiamo le classi politiche che si riciclano in continuazione cambiano la bandiera la nomenclatura ma alla fine poi sono sempre gli stessi ecco prendete esempio loro per 15 anni se ne stanno in disparte lasciano lo spazio ad altri santesi e poi dopo 15 anni se vogliono si rimettono in gioco fosse così nella politica speriamo ma non è così in Italia non è così basta cambiare soltanto il simbolo il marchio e il colore ma sono sempre gli stessi o quasi no sempre lei quante esperienze di Santese ha fatto nel suo cursus vite sono quattro questa è la quarta la quarta la quarta esperienza è soddisfatto sì sì e poi quando trovi amici che ti danno proprio una mano ma voi cominciate a lavorare un po' come le Olimpiadi finite si ricomincia subito per fare la prossima grande edizione così per la prossima mi fermo e poi si rinizia un minuto poi si riparte bene allora avete preparate già il programma per l'altro anno e si riparte benissimo allora noi ci saremo il prossimo anno quando vedremo che i tre coccardati in qualche modo sono stati insigniti di questo vessillo cederanno la coccarda ad altri non a voi perché ovviamente devono passare perché l'altro anno restiamo tutti dentro ecco il bussolotto quello che conta non è che sono truccate magari noi stiamo tutti dentro e potremmo riuscirne un'altra volta e quello è importante insomma perché qualcuno dice che vengono truccati anche i concorsi no 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 questo è tutto alla luce del sole alla luce del sole ma c'è un notaio no sempre tra noi tra di voi tra di voi benissimo lei proprio da dove viene dalla Sicilia Mazzarino un piccolo paesino in provincia di Caltanissetta Mazzarino lo conosciamo di nome benissimo allora con i santesi uscenti sulla mia sinistra che poi è la destra del teleschermo e con i nuovi santesi stanno già predisponendo per l'edizione 2020 vi lasciamo qui da Maltignano di Cascia con le luminarie che qui ci trarranno compagnia fino alle uova di Pasqua e con la luce dei devoti tra cui noi della lanterna di Primucci andando a prendere un ben nocino ci salutiamo ci diamo l'appuntamento per l'edizione 2020 ciao a tutti grazie grazie a tutti Grazie.